ehi la citturma io sono azietes ben ritrovati ancora una volta con questo video di expeditions rome siamo arrivati qua ad alessandria cleopatra ci sta appunto dando il benvenuto dicendo che appena arrivata ecco julia parla già in modo molto più sensato che abbiamo bisogno di ragionare bene prima di entrare sì ne ho una direi la prima ho bisogno di qualcuno che sia molto abile con la retorica sinero dovrebbe essere stare con me per evitare che dica delle scemenze mentre voi invece cercate queste documenti insomma questi documenti ok no non appariremo troppo amici che vuole con cleopatra se capisce che siamo così alleati si no non iniziamo un combattimento andiamo grazie signor prega terza la tua arroganza non ci sta per niente aiutando forse stavano stavano solo aspettando me non sono tu subordinato non sono tu subordinato è una pazza furiosa cosa che aveva? del cibo e dei soldi grazie ma quella è Giulia? questa con sta tunica di sacco? no e lei? chi è? è cleopatra? allora la tacchiera una sua schiava? boh vabbè sono dei feri per te the cooks the horcrux dove si va? qua? è questa la porta? buongiorno grazie anche sopra di te ok ok molto ellenizzato come arredamento va bene ma tanto il problema non sono io chi è Ryan? è successo che il faro non ti ha eseguito idiota wow root? vuoi che manda una cursa di uvascia a te? perché ho proprio fatto con te le persone non mi poteca vuole maledire la guardia Salve, siamo gli importanti ospiti in questione Possibile Ok, lei cerca di parlarci Una lunga storia Beh, in realtà, credo che è abbastanza lunga Se il festival di Serapis in Memphis Va a causare tanto problemi Ah, vuole fare un festival di serapis a Memphis Ma creerò un tipo di problemi E poi Uff, tutti stavano contando a me a casa e l'avevo Perchè il festival sarà una cosa Una brutta cosa? Ah, perchè loro adorano i vecchi dei Non questi Sarebbe irrispettoso E perchè si è stata mandata fuori Dalla stanza del trono Ah, perchè sei fervorata un po' troppo Ah, e ancora Il tuo cuore è ancora attaccato ai tuoi palazzi Perchè il mio suono Ritaino una piccola misura di rispetto per gli vecchi di Dio Ehhhh, si può essere Sei stata qui un mese? Conosci bene il palazzo? Penso Penso Sì Siamo cercando un posto dove i libri e i luci sono stati Conosci La biblioteca? E' l'obiettivo Allora lì Grazie Spero che questo problema di il festival Si risolva Buon successo Allora Andrò Perchè 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 Sei una ragazza Spero Spero con te Ah Deionair fa un supporto psicologico Deionair fa un supporto psicologico Grazie Grazie Gli altri vanno nella libreria o che? Spero Gli altri vanno nella libreria o che? Posso andarci così sereno? Posso andarci così sereno? Vabbè Eccolo Il fratello e marito di Cleopatra Eccolo Il fratello e marito di Cleopatra Sei in presenza di Tolomeo Teo In presenza di Tolomeo Teo Philopator Lui Governa ogni terra e mare Questo mondo e l'altro mondo Dei morti e dei viventi E' lui che Sorveglia il sole e i desideri del Dino ciao marito sembri abbastanza patetico oggi è sempre bello vederti onorevole moglie va bene facciamo leggere un chino vostra maestra io ho addestrato bene moglie risponde bene alla disciplina come tutti i romani ci conosciamo tutti bene quindi possiamo iniziare c'è molta agitazione insomma nelle varie parti presente questo incontro questo non serve a nessuno parliamo sono sicuro che potremo trovare una soluzione soddisfacente a questo conflitto direi scusami ma non capisco bene il tuo ruolo lorco e in che ruolo sei qui questo incontro sono solo un consigliere di sua maestà sono qui per proteggere le rotte commerciali di Roma sai perché siamo qui? sembra di essere un diverbio tra marito e moglie sembra che tu stia prendendo dei... ti stia schierando non è molto corretto ma penso di non poter fare niente per dissuaderti c'è stato un incidente infortunato nel cortile una guardia ha perso la testa i miei uomini si occuperanno del corpo prendi Hortensio e aiuterò ma fai cosa tutti i cometti hanno detto e infatti ci sono gli uomini di lorco qua intorno non si sembra afferminibili credo che possiamo uccidere due le misure sarei davvero piaciuto se potessi ridurli senza lasciare più corpi Kalida, sei bravo a parlare con le persone c'è una razza per almeno due di noi o essere più riusciti quindi potrei mandarti a trovare queste luci è una malattia che il Magistar era necessario nella sala di trono ah, è il problema che avessimo preso si, non so se ne va bene ehm e il suo unico problema è stato quello di venire poi in Egitto il suo unico problema è stato quello di venire poi in Egitto quindi vi prenderete cura del vostro amico qui, mi immagino pensi che fosse il nostro amico? beh, la vostra somiglianza con un asino è importante insolente Giulia Kalida, le vostre mani lasciano molto per essere desiderate bestia, portatela fuori da qui avremo a parlare con questa insubordinazione dopo braaaavo 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 la caccia dice portala via ci occuperemo della sua insubordinazione dopo penso quindi che tu sei il primus sicuramente lo sono si lo sono mi permette di spiegare cosa è successo grande non volevo che lei restasse là e che loro due andassero via perché Giulia è molto più brava in truffolarsi nelle cose e se i mercati sono fuori da via credo che potremmo finalmente discutere il negozio non ho interessi commerciali qua, voglio solo porre fine a una guerra civile una guerra? dove? abbiamo pensato a Windows se parli di questo minor disaccordo tra noi e la nostra famiglia questo è tutto un minor disaccordo inoltre di possesso non possibili la sua majestà non è usata a lavorare con i romani specialmente non a quelli con nessuna posizione nel senato lasciamo a sbattare e cercare alcune cose prima e non con quelli che non hanno nessuna posizione nel senato rallentiamo e spieghiamo prima alcune cose esatto, non nessuna voglia di sentirci insultare vicende siamo qui per mediare un trattato di pace possiamo continuare? un trattato di pace siamo in guerra? un proconsole romano è stato ucciso dagli egiziani se non siamo in guerra potremmo presto esserlo i soldati spesso possono morire i soldati spesso possono morire il tuo proconsole avrebbe dovuto essere più attento capisco quello che intendi per iniziare una guerra sarebbe una direzione un po' spropositata non pensi? ovviamente no visto che stiamo combattendo una guerra nonostante ciò e le guerre sono costose sono sicuro che vuoi che finisca forse ascoltiamo prima cosa hai da dire e arrabbiato vuole che perdiamo dei termini e non ho fatto però come... di qua si entra? e non ho fatto però come... di qua si entra? eh ma non ho fatto mentre li stanno guardando mentre li stanno guardando eh ma non ho fatto mentre li stanno guardando cosa hai in mente? ma qua la porta è chiusa ma qua la porta è chiusa ho fatto anche perdi da b sentire La ragazza deve andare a vedere la ragazza. Mi sa che l'unica è quella di fargli distrarre le guardie, però per forti, perchè... Non ho sentito cosa ne dicono questi. Quello dicevo che deve entrare nella libreria, ma non gli permettono di entrare nella libreria. Non ho più idee, vai. E' un falco per... Prima di entrare direttamente andiamo cosa dici. è una porta forte e è fermata dicevi che hai qualche idea? sei un uomo strano a volte perché questa obsesione con le cioti Ok, niente, la storia dei gatti non ha senso Nel buco vicino a porta? La porta sembra dura No Doviamo guardarci intorno e cercare di trovare ispirazione Scusate, c'è una sedia, va bene, possiamo sederci E questa tavola? Per costruire qualcosa, c'è una fune No, andate a raccogliere la fune, please Adesso possiamo parlare con Raya, vediamo cosa ci dice Raya Dei nera ti sta trattando bene? No, ok, stanno parlando di religione No, hai detto una che adora i gatti Ho bisogno di gatti, se c'è la testa dei gatti, puoi aiutarmi? Gatti sono non vedenti, se non bisogna essere vedenti Guardate, i gatti sono dappertutto Ah, i gatti sono dappertutto Trovo abbastanza gatti per creare confusione Ok, un gatto qua No, infatti C'era anche Pria quel gatto? Ehm... Ce n'è altri? Se sì, dove sono? Ehm... Sai che ci vorrà del tempo per sta roba qua dei gatti? Ehm... C'è un martello qua? Prendi neanche il martello di cui ci sei Un altro gatto E tu sei un altro gatto? What are you up to, bestia? What are you up to, bestia? Ma non ne vedo altri però Ah, un asse? Eh sì Però ci sono altri gatti qua Eccone un altro Libera i felini Ah, costruiamo il coso qua Mi sa che abbiamo preso tutto quello che ci serviva per costruire, spero Eh, prendi il legno allora Pensare lateralmente Pensare lateralmente Se sei fuori dalla box Tu hai perduto la scuola Tu hai perduto la scuola dove era la box In primo momento Trappando un po' di gatti In un libro Chi sta lanciando questa huracana di gatti Nel libro? Sto cercando di lavorare qui, lo sai Sto corretto Sto corretto Benvenuto La chiamata Ha fatto uscire Tizio dalla libreria Perché sta succedendo casini E' succedendo casini in libreria con i gatti Intrigualmente Devo adottare Mi vorrei ascoltare La proposta Ascoltiamo la proposta Il mio libro è abbastanza semplice, d crop Tu avrai preso il tuo attacco E io assumo il mio địza Al vento Spero che finisca in fretta, però non lo so, non credo. Questa fa molto ridere, mi ricorda un po' Big Venture, governare qualche altro posto. Ho sentito che la Cirenaica è splendida in questa stagione. Oppure c'è qualunque cosa la Regina ti dica, basta che smetti di collaborare con l'urco, dovrai essere messo a morte per i tuoi crimini con Vitello e l'urco. Ma direi che ci vediamo nel prossimo episodio, perché sennò qua dura davvero un'infinità. Mi dispiace che l'abbiamo già stoppata una volta, però mi sa che c'è questa roba qua, c'è la roba della libreria, durerà del tempo. Vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi al canale se per caso non l'essi già fatto. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao a tutti. Ciao a tutti.